Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake cioccolato e banana. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cioccolato fondente, uovo, vanillina bimbi, yogurt alla banana, zucchero, banana matura a pezzetti, olio di semi, latte intero, lievito per dolci e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Mettiamolo da parte. Aggiungiamo l'uovo, lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Aggiungiamo adesso il cioccolato messo da parte, lo yogurt, la farina, la vanillina, l'olio, il latte, il pizzico di sale, la banana e il lievito. e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. trasferiamo il composto in uno stampo double cake ben imburrato. cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 30 40 minuti circa. Fate sempre la prova pastecchino. Il plum cake è cotto. Lasciamolo raffreddare prima di rimuoverlo dallo stampo. plum cake cioccolato e banana. Grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.